Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial Ragazzi in questo nuovo video vi spiego come proteggere Come archiviare un pacchetto RAR con una password Quindi in questo caso se tu condividi un file su un sito e qualcuno cerca di ruppartelo E' protetto dalla password Quindi in questo caso iniziamo prima a creare una cartella Io adesso creo una cartella, la chiamo Prova RAR Clicco tasto destro sulla cartella Add to archivi, questo qua il primo Da qui possiamo bloccare il nostro pacchetto RAR Quindi il pacchetto si chiamerà prova RAR.RAR Io blocco l'archivio, questa spunta Faccio così Set password Encrypt file names, questo qua Metto text RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.RAR.R il primo, quindi aggiungi all'archivio da qui puoi creare il tuo pacchetto RAR e puoi anche bloccarlo quindi mi raccomando se metti lo set password e non metti questo non si blocca mi sembra così oppure se metti solamente la password senza mettere EncryptFindNames te lo apri il pacchetto senza mettere la password ok? quindi punta qua sopra, metti la tua password e fai ok mi raccomando blocca anche l'archivio e fai ok quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial una nuova guida nel 2023 su come bloccare un pacchetto RAR con una password come archiviarlo con una password e quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare un like, iscrivervi ed attivare la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao